Ragazzi ciao a tutti dallo stand Husqvarna con una novità molto particolare che ha sorpreso tanti siamo con Lello Tasca, buongiorno Lello Ciao Andrea, ciao a tutti è questa 701, guardate che serbatoione come è studiata proprio da viaggio però senza la carenatura africana c'è un serbatoio tradizionale, adesso capiamo con te da quanti litri che si affianca a quello classico sotto la sella esattamente raccontami tu Lello come si chiama prima cosa questa moto la moto si chiama 701 Enduro LR e LR sta per Long Range per cui appunto è una moto dedicata a chi è appassionato dei lunghi tragitti come dicevi ha un serbatoio supplementare di 12 litri che si aggiunge a quello di 13 della moto di serie per cui complessivamente abbiamo 25 litri di carburante disponibili non è l'unica novità di questa moto perché quest'anno nel Modellier 2020 della 701 Enduro c'è tantissima elettronica in più che serve sicuramente a questo genere di appassionati innanzitutto hai la possibilità di settare una modalità off-road quindi c'è una mappatura dedicata a chi vuole fare off-road e questa è una vera dual perché ti dà la possibilità appunto di utilizzarla per l'utilizzo quotidiano ma anche se ti vuoi divertire a fare un po' di fuoristrada quindi oltre alla selezione della mappatura poi hai anche il controllo di trazione e l'ABS che sono sensibili all'angolo di piega fantastico Lello poi ricordiamo che questa moto ha una dotazione tecnica di alto livello sospensioni regolabili, traliccio, forcello in alluminio e poi il motore monocilindrico credo ancora oggi monocilindrico più potente sul mercato a quanto arriva? 75 cavalli? 74 cavalli ho sbagliato di uno, siamo belli in alto come potenza curiosità per i nostri amici che ci seguono questo tasto con l'indicazione della pompa della benzina cos'è? sì esatto, lì hai la possibilità della gestione dei due serbatoi quindi lì gestisci e controlli quando i due serbatoi sono in riserva fantastico, fa veramente moto da gara della Dakar la gestione dei serbatoi l'ultima informazione che voglio darti è del prezzo il prezzo di listino della 701 Enduro la versione diciamo standard è di 10.790 euro franco concessionario questa moto invece costa 11.790 un'altra informazione per chi ha acquistato una 701 Enduro modelier precedenti o anche la versione modelier 2020 ha comunque la possibilità di acquistare il kit per trasformare quindi la sua 701 Enduro in una long range edition caspita ragazzi Lello sa veramente tutto, non devo neanche intervistarlo grazie mille Lello grazie a voi ragazzi, alla prossima e la moto invece resta per voi qua sotto nel canale youtube di moto.it ciao alla prossima presentazione qui da EICMA ciao ciao